Falsa partenza del processo per la morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, i due impiegati dell'archivio di Stato, morti e asfissiati dalla gas argono fuoriuscito dal sistema antincendio. La prima udienza del procedimento penale è stata infatti rinviata al prossimo 17 febbraio. 11 le persone sedute sul banco degli imputati accusate di duplice omicidio. Tra loro anche il direttore dell'archivio Claudio Sabiotti e l'ex direttrice Antonella D'Agostino, oltre al vice comandante dei vigili del fuoco dell'epoca Antonio Zumbo. E proprio sulle eccezioni sollevate dalle difese il giudice Giorgio Margheri si è riservato. Sulla base dell'inserimento degli accertamenti tecnici di finiti irripetibili, allorché alcuni imputati pur poi considerati indagati non erano stati assolutamente avvisati e non hanno ricevuto avvisi di notifica. Sempre a febbraio il giudice dovrà poi esprimersi sulle ammissioni dei testi. Tra quelli citati dal legale di Andrea Gori, uno dei tecnici accusati di non aver verificato le pecche dell'impianto, figurano Antonio Di Pietro, Pierluigi Berzani ed Emma Bonino. Sono coloro che, secondo il capo di imputazione, avrebbero stessa la legge che ci contesta. Poi finalmente si entrerà nel vivo della vicenda che quel 20 settembre 2018 scosse l'intera città. Già costituite parte civile nel processo le famiglie delle due vittime. Noi ci aspettiamo di ottenere ovviamente il risarcimento del danno, ma la speranza è che questo risarcimento interrega prima possibile per poter uscire da questo processo e per far sì che anche le famiglie non debbano partecipare a questo processo che ovviamente fa rivivere loro il dramma.